Allora, questa strada che porta al Sacromonte è pronta no ad accogliere i tanti pellegrini, è stata chiusa nelle scorse settimane, proprio a Pasqua se non sbaglio, e lei subito ha detto la sua su questo intervento. Guarda, più che, non ero neanche a conoscenza del fatto che avessero chiuso la strada, devo essere sincera, è stato un amico che mi ha inviato le foto e mi ha sollecitato a fare un post, perché io non è che posso essere dappertutto. Però, vedi, al 23.07.2018 avevo fatto un'interrogazione consigliare, a cui non mi è stata data mai nessuna risposta. 23 luglio 2018, proprio per chiedere la messa in sicurezza di quel tratto di strada, ma non ho ricevuto alcuna risposta in merito. Spero che la strada riapra più presto. Ma ancora è chiusa? Al momento sì, domenica scorsa c'era ancora il segnale. Il Sacromonte apre il 26, fra 15 giorni. Io ho sentito dire, ma queste sono voci di piazza, voci di popolo, che il sindaco De Vita ha affermato che non avrebbe fatto riaprire la strada, c'è uno scontro con il parroco del santuario, non so. Quindi non apre il santuario, oppure ci arriviamo a piedi. Dalle sue dichiarazioni. Cioè può aprire il Sacromonte e ci arriviamo a piedi. Forse arriviamo a piedi ci fa pure bene dal punto di vista fisico e facciamo effettivamente un pellegrinaggio a tutti gli effetti. Però è chiaro che ci sono delle persone che non possono raggiungere a piedi, ci mancherebbe altro. Il santuario deve essere riaperto e bisogna fare di tutto per riaprirlo al più presto. Ascolteremo pure Don Carmine allora? No, secondo me oltre Don Carmine dobbiamo ascoltare anche il sindaco De Vita, dobbiamo ascoltare anche tutti gli altri amministratori. Io sono disponibile ad un confronto, se vogliono venire qui da te, anche con un soggetto terzo che dice poi chi ha ragione o chi ha torto, anche sugli atti amministrativi che loro predispongono e che noi critichiamo. Noi siamo disponibili, non chiudiamo le porte a nessuno. Io sono pronto a tutto, a qualsiasi tipo di confronto, non mi sottraggo mai a se ci mancherebbe altro. La democrazia è bella per questo, altrimenti senza democrazia, senza regole, senza democrazia, non si va da nessuna parte.